alfred monnin lo spirito del curato d'ars capitolo quarto la salvezza ci sono molti cristiani che non sanno neanche perché sono al mondo perché signore mi avete messo al mondo per salvarti e perché volete salvarmi perché ti voglio bene dio ci ha creati e messo al mondo perché ci ama e vuol salvarci perché ci ama per salvarsi bisogna conoscere amare e servire dio o vita felice come bello è grande conoscere amare e servire dio non abbiamo altro da fare al mondo tutto ciò che facciamo fuori di quello è tempo perduto bisogna agire solo per dio mettere le opere nostre nelle sue mani bisogna dire svegliandoci voglio lavorare oggi per voi o mio dio mi sottometterò a tutto quello che vorrete mandarmi proprio perché viene da parte vostra mi offro in sacrificio ma signore io non posso nulla senza di voi aiutatemi come al momento della morte rimpiangeremo il tempo che avremo consumato in piaceri in conversazioni frivole nell'ozio invece di averlo impiegato nella mortificazione nella preghiera nelle opere buone nel pensare alla propria miseria e ai propri miserabili peccati allora vedremo che non abbiamo fatto niente per il cielo o figlioli miei che cosa triste tre quarti dei cristiani non sa faticano che per dare soddisfazione al cadavere che ben presto andrà in marciume sotto terra mentre non pensano affatto alla loro provera anima destinata a essere eternamente felice o dannata mancano di intelligenza e di buon senso e cosa da far tremare ecco dunque il nostro uomo che si tormenta si agita schiamazza vuol dominare su tutto si crede qualcosa e par voler dire al sole tirati in là lasciami far la ruce al mondo al posto tuo e questo uomo orgoglioso sarà ridotto un giorno tutt'al più a un pizzico di cenere che verrà trascinato da ruscello a ruscello da fiume a fiume sino al mare ecco figlioli cari io penso spesso che noi assomigliamo a quei mucchietti di sabbia che il vento raccoglie per la strada girando un po' su se stessi e si disfanno poi subito noi abbiamo dei fratelli e delle sorelle ormai morti ebbene essi sono ridotti a quel pizzico di cenere di cui vi parlavo la gente di mondo afferma che è troppo difficile pensare alla propria salvezza non c'è tuttavia cosa più facile osservare i comandamenti di dio e della chiesa ed evitare i sette peccati capitali non c'è che questo se volete fare il bene ed evitare il male i buoni cristiani che si adoperano per salvare la loro anima sono sempre felici e contenti godono in anticipo di una pace celestiale e per tutta l'eternità saranno felici i cattivi cristiani invece che si dannano sono sempre da compiangere mormorano sono tristi sono infelici come le pietre e lo saranno per tutta l'eternità ecco la differenza una buona regola di condotta fare soltanto quello che possiamo offrire a dio non possiamo certo offrirgli delle maldicenze delle calunnie delle ingiustizie delle collere delle bestemmie delle impurità degli spettacoli e delle danze e tuttavia sono queste le cose che si fanno di solito nel mondo parlando delle danze san francesco di sal diceva sono come i funghi le migliori non valgono un bel niente le madri hanno un bel dire o io veglio bene su mia figlia si esse vegliano sui loro abiti ma non possono certo fare altrettanto sul loro cuore coloro che organizzano balli in casa si caricano di una terribile responsabilità davanti a dio sono responsabili di tutto il male che si compie dei cattivi pensieri delle maldicenze delle gelosie poi degli odi e delle vendette se capissero a fondo questa responsabilità non farebbero mai danzare così quelli che fanno dei cattivi scritti dei cattivi quadri o cattive statue sono responsabili di tutto il male che questi oggetti semineranno per tutto il tempo che dureranno come questo fa tremare bisogna dunque riflettere figlioli cari che noi abbiamo un'anima da salvare è un'eternità che ci aspetta il mondo le ricchezze i piaceri gli onori passeranno ma il cielo l'inferno non passeranno mai facciamo dunque attenzione i santi non hanno tutti cominciato bene ma tutti sì hanno finito bene noi abbiamo cominciato male finiamo bene e andremo a raggiungerli in cielo